La guerra è tra noi e ha la grande espansione capitalista e per cui il ciclo di guerra è avviato con la prima guerra del Golfo. E già allora la guerra arrivò in Europa. Oggi non ce lo ricordiamo, ma proprio a Parigi io ricordo la stagione degli attentati nei supermercati e nella metropolitana, più o meno fatti dai servizi segreti algerini piuttosto che dal gruppo Salafita per il combattimento. Però era già arrivato lì. Oggi è diversa, io credo, per altre ragioni su cui dovremmo riflettere. In maniera un po' più strutturale. Primo, cerco di andare molto rapido, però di puntualizzarli. La guerra è diversa perché è una guerra all'interno di una grande crisi mondiale. La guerra degli anni 90 era la guerra della stabilizzazione e dell'espansione capitalista nel mondo. dello spezzettamento dell'Europa dell'Est, dei Balcani, della costruzione dell'Unione Europea attraverso i Balcani, della sistematizzazione e della stabilizzazione del Medio Oriente, del tentativo poi fallito. Era una guerra imperialista e colonialista da ogni punto di vista. La guerra di oggi è la guerra di sopravvivenza. È una guerra all'interno di una crisi prolungata di cui non si vede uscita, in cui non solo l'Italia è all'interno di una depressione che ormai dura da sette anni, che non durerà probabilmente un decennio se non di più, ma è una guerra in cui tutto il sistema capitalistico è messo in crisi, vede i suoi spazi di sopravvivenza messi in crisi, e inizia a confliggere, a frizionare nel controllo delle proprie aree monetarie, delle proprie aree commerciali, delle proprie aree militari. Secondo elemento, questa grande crisi avviene nel momento di passaggio tra un'egemonia mondiale che sta finendo e un'egemonia mondiale che forse sta nascendo, ma che inizia a protendersi nel mondo. Io ho letto i documenti, innanzitutto vi ringrazio di avermi invitato, non era scontato anche, ne siamo stati apprezziamo questa cosa, ho letto con interesse i documenti congressuali, e voi ragionate sull'imperialismo sui generis della Cina, e io credo che noi dovremmo ragionarci a lungo, proprio a partire dalla nostra tradizione, e approfondamente nei prossimi anni, però io credo che un dato è che c'è questa propensione imperialista e mai, come nella vicenda cilena, non una politica di potenza, un imperialismo povero alla Putin, ma c'è la necessità per la Cina, per sopravvivere economicamente, di espandersi e di costruire una propria aree. La Cina costruisce la sua espansione enorme negli ultimi dieci anni, non sulle esportazioni, e neanche sulla costruzione del mercato interno, ma sugli investimenti. Il 50% del PIL cinese, 5.000 miliardi, il doppio del PIL italiano, è fatto di investimenti. Ci sono più chilometri di TAV in Cina, che in tutti i paesi a capitalismo avanzato. 10.000 chilometri di TAV, a oggi, già costruiti, lasciamo perdere quello che è programmato di fare. E se la crisi rallenta, quel tipo di investimenti per mantenere l'equilibrio non sarà più all'interno della Cina, ma si sta espandendo. Non solo nell'esportazione dei capitali, 16 volte quelli del 2000, ma nella costruzione di linee di propensione specialista. La via della sete marittima, la via della seta terrestre. E così scopriamo, nel silenzio più o meno internazionale, che è improvvisamente nata una base militare, i cinesi a Djibouti. Che qualche migliaio di soldati cinesi da qualche anno è presente nel corno d'Africa. Che in Pakistan, in Thailandia, c'è una presenza. Che perfino nei colloqui sull'Afghanistan e sulla gestione post-americana dell'Afghanistan, la Cina entra pesantemente. E che sta costruendo, con molta lentezza, però una propria flotta militare, e ci sono tutte le vicende della costruzione di una propria area. Ma di più, anche di una propria area monetaria, e della vicenda dello Yuan. Delle proprie strumenti di costruzione di un'area economica internazionale. È la Banca Asiatica per l'investimento. E ovviamente tutto questo confligge con gli Stati Uniti. Non vorrei tornare alla storia degli anni 30, tra Giappone e Stati Uniti, sul controllo del Pacifico. E vorrei, e lo dico qui, dove condividiamo una tradizione, di non lanciare la previsione o l'avvertenza stiamo andando verso la terza guerra mondiale. La nostra tradizione l'abbiamo già fatto 70 anni fa e non è sulle previsioni che si costruiscono le strategie politiche. Però questo è il quadro. Ed è un quadro molto diverso, io credo, da quello del 1990. Terzo elemento, e questo interessa a noi, negli anni 90 quelle guerre all'interno del processo di stabilizzazione costruivano l'Unione Europea. Perché l'Unione Europea è stata anche costruita sul sangue dei Balcani. E' anche stato costruito sul sangue della spaccatura della Moldavia e dell'espansione della Natoa Est. Oggi queste guerre avvengono in una fase in cui l'Unione Europea non solo in staglia, io credo che su questo dovremmo iniziare a ragionare collettivamente, ma io credo che negli ultimi mesi qualcosa è cambiato. Da una situazione di stallo, dalla costruzione, il tentativo di costruzione di un polo fatto, voi lo chiamate protostato, federalismo, ragioniamoci, anche noi stiamo ragionando. E' un tentativo lento, contraddittorio, difficoltoso di costruire un capitale europeo. A un certo momento ha stallato, oggi sta tornando indietro. Non è detto che si scioglie, perché le ragioni per tenere in piedi un polo imperialista europeo sono forti. Innanzitutto un mercato di 400 milioni, di fronte a un mercato di 400 milioni di americani è un mercato di un miliardo e rotti di cinesi, ma 400 milioni con le stesse capacità di consumo dell'Europa. E allora ci sono ragioni. E tant'è che c'è una BCE che difende le euro e difende l'Europa ed interviene. Però qualcosa sta succedendo. Fanno parte del dibattito di oggi, che ho sentito anche qui da questo palco. Non è che ci torna la vicenda dei nazionalismi europei, la vicenda dei profughi, però la Commissione europea è bloccata. E non solo perché è in mano a un noto alcolista che ha difficoltà di relazione politica e sociale. E per cui c'ha un vero commissario che è un tedesco alle spalle e giustamente Renzi lo sta attaccando lui perché si rende conto che l'altro ha i suoi limiti. Non c'è solo una debolezza politica. C'è anche una debolezza strutturale in questa fase della Commissione europea. E questo è avvertito dappertutto. È avvertito che tutto questo rende più cupa questa guerra perché ci parla del nostro futuro e del nostro quotidiano. E allora tutto questo che cosa vuol dire? Io credo che su questo vada costruito un movimento. E la prima cosa, io cerco sempre di essere il più chiaro possibile, è importante costruire un movimento contro la guerra. E secondo noi in ogni occasione è possibile. Con un'ottica di fronte unico con chiunque. Noi abbiamo partecipato alle manifestazioni del 16 gennaio. Sapevamo e sappiamo che dentro quelle manifestazioni c'era una componente che costruiva quelle impostazioni e quelle manifestazioni con l'idea di ribaricentrare una sinistra europea su una lettura geopolitica del conflitto sociale. Un nuovo campismo. In maniera diversa, un campismo nazionalista sovranista all'unità popolare greca o un campismo a lavasa pollo che propone l'alba dei paesi mediterranei contro la Germania. Però dopo l'autunno gelido dove l'antagonismo italiano con la splendida operazione del primo maggio ha certificato l'incapacità di costruire cortei nazionali io credo per un lungo periodo. I nostri compagni a Milano ci dicono la street parade del primo maggio a Milano quest'anno non si terrà perché il livello di conflittualità interna è enorme. Dove la CGL non ha fatto nulla e la FIOM nemmeno e quel poco che ha portato in piazza era a livelli ridicoli corteo del 21 novembre corteo del 28 novembre di FIOM e CGL e CISLEWILL una manifestazione piccola sporca e cattiva uso anche questo termine però era un segnale esserci lì combattendo quelle posizioni ma cercare di esserci con tutti con tutti quelli con cui oggi si riesce a costruire un minimo di unità contro la guerra indipendentemente da tutto secondo me perché dare un segnale in questo quadro di contraddizione è fondamentale c'è un secondo livello su cui possiamo aprire un'interlocuzione io lo dico ed è quello del ragionamento di dire costruiamo un fronte costruiamo una rete ma se il quadro della guerra è così diverso io credo che costruire una rete o un fronte ha bisogno di alcune condizioni la prima l'elemento classista l'elemento classista cioè davanti a una guerra che oggi agisce nel contesto della crisi costruire un fronte costruire un fronte classista il che vuol dire che ci si oppone alla guerra ma che anche dentro questa guerra si cerca il punto di vista di classe si individuano i soggetti di classe e si combattono ogni logica di fronte di liberazione nazionale di fronte popolare che all'interno di queste guerre si muove è qui che sta nel pantano siriano in quello iracheno la linea di differenza che bisogna tracciare rispetto a Assad rispetto il fascismo islamico ma anche rispetto nella sinistra italiana si dice i curdi ci sono curdi e curdi ci sono partiti politici curdi e partiti politici curdi c'è una destra curda ci sono organizzazioni filoimperialiste curde iniziare a distinguere sul piano internazionale sul piano generale sul piano della costruzione degli elementi secondo elemento io dico dare una prospettiva che non può essere una prospettiva anticapitalista e di più io devo ammettere ho detto sono stato piacevolmente sorpreso da un pezzo del vostro documento e quando voi dite ci vuole un'altra Europa ma da in fronte a questa crisi dell'Europa che è una crisi così profonda bisogna lanciare una parola d'ordine in cui sia chiara adesso sto parafrasando in cui sia chiara questa differenza sull'altra Europa e quindi fate dal mio punto di vista un passaggio politico non solo un'altra Europa sociale solidale eccetera ma adesso non mi ricordo gli stati socialisti d'Europa la federazione socialista d'Europa dare il segnale politico che è uno degli elementi poi discuteremo come con che passaggi con che percorsi ma che da questa crisi si esce con l'anticapitalismo e si esce con una prospettiva diversa radicalmente alternativa con la costruzione di un progetto di società alternativa a quello capitalistico nominandolo e ultimo elemento anche perché i tempi sono quelli che sono e di nuovo per essere chiari perché diciamoci le cose in faccia sono qui seduti intorno a questo tavolo con un ex ministro del governo Prodi un piccolo pezzo della sua maggioranza per un paio d'anni non ci devono essere ambiguità davanti a una situazione di questo tipo davanti a una guerra che ha queste caratterizzazioni non ci devono essere ambiguità e vale per il bilancio critico del passato anche del vostro non solo quello di Paolo e vale per la nettezza dei comportamenti in futuro da entrambi i punti di vista non perché voglio dire non siamo un dibattito pubblico non è che devo conquistare qualcuno di voi ma per essere chiari perché davanti a una situazione io credo che nei prossimi anni voi noi la sinistra italiana sarà messa di fronte a delle prove durissime e davanti a queste prove durissime noi dobbiamo affrontarlo con una nettezza di prospettiva non arrivo a dire perché non siamo ancora quello con la nettezza di prospettiva non tanto di Zimmerwald ma della ricostruzione di un internazionale perché non siamo ancora al 4 agosto in certi versi siamo molto peggio perché è Valls che oggi in Francia propone la costituzionalizzazione dello stato d'emergenza una roba che non va contro il socialismo va contro la storia della Repubblica Francese per come l'abbiamo conosciuta negli ultimi 50 anni se non altro anzi di più dal dopoguerra in poi ma io credo che i passaggi saranno molto più duri e rispetto a questo appunto secondo me l'importanza delle forze della sinistra rivoluzionaria è di non avere ambiguità su questo poi ci saranno le differenze le appartenenze di percorso ma credo che potremmo trovare e costruire un confronto grazie grazie a tutti